Musica Oggi è stato proposto un format interessante che riguarda naturalmente il settore dell'agroalimentare dove possiamo portare dei prodotti, penso al vino, penso al prosciutto, penso ai nostri formaggi ma a tante altre eccellenze che abbiamo sul territorio. Poi è un format interessante perché non ci sono soltanto i prodotti ma anche chi li fa e quindi la possibilità ad esempio di investire sulla cucina del territorio, di fare anche un collegamento tra regioni che in qualche modo presentino non soltanto il Friuli Venezia Giulia ma anche tutte le regioni del nostro paese per fare sistema.